Il Verdi in Pescheria è la rassegna estiva di spettacoli che si terranno nella riqualificata Piazza Pescheria a Pordenone. Il recupero urbanistico al servizio della cultura nelle parole dell'assessore Alberto Parigi. Il Teatro Verdi è garanzia di qualità assoluta. Noi abbiamo fatto in modo che adottasse Piazzetta Pescheria per questi eventi fuori del teatro. In tal modo arricchiamo l'offerta dell'estate a Pordenone. È un'operazione che facciamo anche con Piazza della Motta e con altre piazze. C'è stata la riqualificazione urbana. Adesso è il tempo per così dire della fase 2 di dare un ruolo, un senso a queste piazze facendo in modo che lì succeda qualcosa e succeda qualcosa di qualità. Quindi richiamando sia i pordenonesi e sia chi viene da fuori attraverso proprio la leva degli eventi e degli appuntamenti culturali e artistici di qualità. Al presidente del teatro Giovanni Lessio il compito di illustrarci per sommi capi il programma degli eventi. Un programma molto entusiasmante che avvicinerà gli appassionati di jazz, di musica e anche di danza. Per un'estate che vogliamo, molto brillante, un'estate che intendiamo che il pubblico riviva con grande gioia, grande partecipazione. Ci sarà una piazzetta animata, ci saranno 400 posti a disposizione, ci sarà anche il bar. Proprio tutto questo per creare questo clima di condivisione, di momenti di divertimento, di momenti di allegria che vorremmo far vivere non solo ai cittadini di Pordenone ma anche a tutti quelli che vengono a Pordenone proprio per la sua grande offerta culturale e di spettacolo. Spettacoli, date e orari saranno consultabili sul sito del Comune.